segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te cioè andiamo verso quella ritrovata concordia nazionale che ha auspicato giorgia meloni o no beh dunque tanto è stata una bella giornata nel senso che ci sono state delle manifestazioni importanti quindi c'è una partecipazione una confermata adesione della stragrande maggioranza del popolo italiano ai valori che la resistenza ha incarnato però dal punto di vista diciamo più strettamente politico secondo me è stata un'occasione mancata è stata un'occasione mancata per questo è il mio punto di vista personale lo abbiamo scritto sull'inchiesta un'occasione mancata per responsabilità della presidente del consiglio perché lei aveva una grandissima occasione l'occasione di unire il paese di fare un discorso che chiudesse le polemiche le ambiguità le discussioni dicendo sì siamo tutti figli della costituzione la costituzione figlia della resistenza la resistenza è stata diciamo l'emblema è stata portata avanti nel segno dell'antifascismo ergo sono antifascista siamo tutti antifascisti lasciamoci diciamo una pagina di polemiche alle spalle questo sarebbe stato un discorso da grande leader nazionale il fatto che lei non l'abbia fatto questa è la domanda di oggi le cose ieri abbiamo commentato la domanda di oggi è perché la meloni non lo ha fatto la meloni non lo ha fatto secondo me a differenza di altri esponenti di fratelli anche di fratelli d'italia della lega di berlusconi lei non lo fa perché non la vuole dare vinta non la vuole dare vinta a coloro che ritiene ancora i temici cioè lei ancora dentro la logica lei che dice di volerla superare è dentro la logica degli anni settanta dove ci sono gli antifascisti e fascisti fascisti e comunisti equipara tutto e quindi non la vuole dare vinta anche per una forma secondo me di rivalsa personale c'è anche un tratto psicologico in questo in giorgia meloni cosa invece altri hanno superato cioè come dire siamo stati tanto tempo ci avete posizione ci avete distrutto dice lei per 40 anni non ci avete fatto parlare nelle scuole ci avete menato adesso non potete pretendere che noi facciamo quello che voi dite voglio sentire bagnai su questo vediamo che ne pensa rispetto a questa prima riflessione che faceva mario la via ma qualcuno mi discusi qualcuno oggi dice la giorgia meloni incarna perfettamente la leader della destra ma non è come dire la premier di questo paese diciamo sfrutto una segretaria di partito una segretaria di partito qualcosa di più che una segretaria di partito la leader di partito ma non una leader nazionale perché non ha unito il paese chiedo scusa no no ma prego prego